benvenuti amici nel mio canale allevamento amatoriale di raffaele esposito oggi parleremo di diamante coda lunga e soprattutto parleremo di due tre nuovi novelli nati quest'anno un bruno un feo melanico e un ancestrale e proverò a farvi vedere le differenze subito dopo la intro buongiorno amici oggi volevo fare questo video per presentarvi il diamante coda lunga come bene ben vedete tre fratellini un po particolari meglio dire due sorelline credo e l'ancestrale è un maschietto parliamo di quella in alto una feromelanica quella subito sotto una bruna e di lato vediamo l'ancestrale beh sono nati da mamma cremaino e papà portatore di cremaino vediamo di dire niente volevo presentarvi queste tre diverse modalità di mutazione e studiare un po la feromelanica che a me sembra un bel una bella mutazione di colore la feromelanica e la bruna ce la teniamo e cerchiamo di fare altri soggetti per il prossimo anno essendo questi qua le uniche due mutazioni uniche due singoli soggetti di queste due mutazioni che sono nati quest'anno poi abbiamo anche altri ancestrali ma volevo mostrarvi questi qua se il video vi è piaciuto mettete mi piace e iscrivetevi al canale alla prossima amici buona giornata se il video vi è piaciuto mettete mi piace iscrivetevi al canale e ci vediamo al prossimo video amici ciao ciao